Buonanotte a tutti ragazzi, faccio questo video molto 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 veloce per aggiornarvi sulla situazione Spider-Man visto che comunque ci aspettavamo un qualcosa a dicembre ma non è arrivato niente dunque, qual è la nuova teoria su un trailer? che era quella che alla fine in cui credevo di più, ovvero che vedremo il trailer verso aprile-marzo ma è una teoria che viene rafforzata dal fatto che verso quel periodo finisce anche VandaVision la serie che andrà in onda su Disney Plus dal 15 gennaio e che sarà collegata al multiverso quindi aspetta il mentre è, ha molto senso, ha effettivamente molto senso quindi non aspettatevi niente a gennaio e neanche a febbraio, da marzo in poi secondo me vedremo qualcosa tra l'altro non stanno neanche dicendo il titolo del film quindi vuol dire che vogliono fare proprio questo annuncio di impatto non vogliono rovinarci diciamo alla sorpresa perché se ci rivelassero il titolo del trailer, cioè del film insomma, sai già cosa aspettarti invece vedi tutto ed è più figo poi tra l'altro si parla del fatto che Maguire non ha concluso le trattative quindi magari anche per questo ma nel complesso credo che comunque sia proprio presto per farci vedere qualcosa infatti mi sembrava strano che si parlava di sto dicembre e infatti alla fine non c'è un cazzo perfetto quello che invece possiamo aspettarci molto probabilmente questo mese è proprio il trailer di Venom 2 Venom 2 è molto possibile che lo vedremo in queste settimane perché comunque il film uscirà a giugno quindi sei mesi prima ha pienamente senso e quindi insomma speriamo che ne sapremo di più il prima possibile e niente ragazzi vi auguro ancora buon anno speriamo che sia un anno di certezze non di incertezze continuo e speriamo di poter tornare al cinema per vedere questi film perché vorrei che iniziassero di nuovo a rinviare tutto da capo quindi speriamo bene e niente ragazzi al prossimo video ciao a tutti vi aspetto su Twitch comunque in questi giorni dove insomma faremo qualche live parleremo ancora di questo e niente alla prossima